E ci siamo messi al lavoro per realizzare quello in cui credevamo, come sempre. Quando abbiamo deciso di mettere in cantiere il nostro progetto, era solo un sogno. Sapevamo solo che qui sarebbe sorto un polo logistico d'eccellenza, punto chiave per l'intera rete distributiva di Italtrans. E ci siamo messi al lavoro per realizzare quello in cui credevamo, come sempre. Grazie a tutti.